Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi faremo le tartellette con crema e frutta. Prima di iniziare però vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina. E mettete un bel mi piace a questo video. Se rifate la ricetta ricordatevi di taggarmi su Instagram che vi riposto. Gli ingredienti che ci serviranno sono Perla frolla, 250 g di farina, 125 g di zucchero, 125 g di burro, 2 uova, un cucchiaino di lievito, una bustina di vanillina e la cuccia grattigiale di un limone. Invece per la crema ci serviranno Mezzo litro di latte, 2 uova, il succo di mezzo limone, 90 g di zucchero e 60 g di farina. Per prima cosa iniziamo a preparare la frolla. Mettiamo tutti gli ingredienti insieme e li mescoliamo. Messe gli ingredienti possiamo impastare. Finito di impastare passiamo alla preparazione della crema. Mettiamo tutti insieme gli ingredienti però a piccola precisazione il latte va prima riscaldato. Mettiamo tutti insieme gli ingredienti per la crema. Una volta cotta la crema la facciamo riposare con pellicola a contatto. Ma per portarmi avanti ho la crema già pronta, raffreddata. Adesso passiamo alla preparazione dei cestini. Iniziamo stendendo la pasta. Teso l'impasto iniziamo a fare le formine. Formine fatte. Ora andiamo a mettere nello stampo per i muffin. Una volta messi nello stampo andiamo a fare dei forellini alla base. Ora le mettiamo nel forno per 15 minuti in modalità statica. I nostri cestini sono pronti. Ora andiamo a mettere la crema pasticcera e la frutta. Ora che i nostri cestini sono pronti andiamo ad assaggiare. Questa volta però assaggio io. Direi molto buono. Il video è finito. Vi ringrazio per averlo visto. Ci vediamo alla prossima. Ciao!